Siamo entrati in questa era, in una nuova era in cui l'intelligenza artificiale è accessibile a tutti e ovviamente ci auguriamo che i nostri figli vivano in un futuro in cui l'intelligenza artificiale possa portare cambiamenti positivi ovunque, però è evidente che ci sono anche dei rischi che non possiamo sottovalutare e dobbiamo affrontare in modo diretto, anche perché oggi si conoscono questi rischi. Però inizio dei cambiamenti positivi di cui sicuramente si parlerà oggi e di cui peraltro, a proposito della citazione del senatore Alessio Butti, di cui stiamo discutendo con il comitato guida delle strategie dell'intelligenza artificiale, peraltro presieduto dal professor Greco. Allora, sono cambiamenti positivi che arrivano un po' dappertutto, nell'industria, con i sistemi predittivi, nella società, perché in generale fa risparmiare tempo prezioso alle attività quotidiane di tutti, sappiamo bene, c'ha GPT, eccetera, nella sanità, nella diagnosi, perché ovviamente si possono pianificare, trattare, gestire dati dei pazienti, fare diagnosi, insomma migliorare l'efficienza in generale del settore medico, nell'ambiente evidentemente a cui teniamo molto. Nell'energia, no, per le nuove reti intelligenti si possono prevedere fonti di energia rinnovabili.